Ciao a tutti e benvenuti. Oggi desidero annunciarvi due novità per quel che riguarda il canale Trick Track Model. La prima è che, dopo un lungo periodo di incertezza, ho deciso di cominciare dei lavori di miglioramento, almeno spero, alla stazione principale. È sempre difficile smantellare il lavoro fatto, ma c'erano degli aspetti che non mi convincevano e credo la stazione possa essere migliorata. Vi terrò, ovviamente, più che giornati a riguardo. La seconda comunicazione è qualcosa che molti di voi mi hanno chiesto numerose volte, ovvero di far vedere tutta la mia collezione, se così vogliamo definirla, di rotabili e in particolar modo di locomotive e mezzi di trazione. Preciso innanzitutto che una parte di quelli che vedete sono miei, ma alcuni mi vengono prestati da un amico. Per la prima volta ho deciso di farvi conoscere tutte le locomotive che vengono utilizzate nei video. Ho pensato che il modo migliore sia quello di fare una sorta di calendario dell'avvento, sia sulla community di YouTube che su Instagram, strumento che ben si presta a questo genere di idea. A partire dal primo dicembre, quindi, ogni giorno pubblicherò la foto di una delle locomotive, sino alla vigilia di Natale. Alla fine farò un video riassuntivo, sempre qui su YouTube. Lascio il link del mio profilo Instagram in descrizione, se avrete piacere di seguire il calendario. E non vedo l'ora di darvi novità riguardo le modifiche alla stazione. Ci sarà un po' di tempo, ma sono più che certo che la nuova disposizione vi piacerà. Grazie infinite e a presto!